Il presente è già in qualche modo il futuro della Fondazione Golinelli. L'ocufficio nel quale ci troviamo è un luogo di contaminazione feconda tra il processo di formazione e la ricerca e la prima possibilità che i giovani trovano qui e forse in nessun altro luogo in Italia di poter fare imprese e misurarsi con la loro creatività. È un luogo dove il sogno può tradursi in futuro. Grazie a tutti.